Ciao, oggi parleremo del fuoco alchemico. Il fuoco alchemico è uno degli argomenti sul quale gli alchimisti sono stati più reticenti. Vediamo cosa possiamo dirne insieme. Abbiamo un fuoco calore, il fuoco come principio di calore, abbiamo un fuoco luce, quindi un fuoco che mette in luce, mette in evidenza, attraverso il suo chiarore, e abbiamo un fuoco intimo, un fuoco eterico, più legato alla percezione dell'anima. Nel fuoco fiamma, nel fuoco calore, nel principio calorifico del fuoco, l'alchimista vedeva, tra le tante cose, anche il suo calore corporeo, il fatto di sentirsi caldo. Io ho un calore corporeo. Sono 36,5 gradi che ricordano i 365 giorni di rivoluzione terrestre intorno al sole. La rivoluzione terrestre intorno al sole, che è simbolo cardiaco, ricorda appunto la circolazione sanguigna. Infatti in astrologia il domicilio del sole, che è il leone, è legato al sistema cardiocircolatorio. Quindi c'è una relazione tra i nostri 36,5 gradi e i 365 gradi di rivoluzione della terra. Quindi l'alchimista ascolta il suo calore, comincia a percepire il suo calore e se fa pratica del suo calore, a un certo punto, provare per credere, succede qualcosa. Questo calore diventa qualcosa di diverso. Ascolto il mio calore, se continuo ad ascoltarlo nella pratica, il mio calore si trasforma, diventa qualcos'altro. Poi abbiamo il fuoco luce, il fuoco che mette a fuoco, il mettere a fuoco. E questo fuoco, ci ripetiamo, ma è legato alla scienza dell'astrologia. Ovviamente l'astrologia come fu pensata dall'alchimismo. L'astrologia è la scienza dei fuochi, è la scienza del mettere a fuoco. Se io osservo il mio tema natale, il mio tema genetliaco, vedo all'interno di questo tema tutti i miei fuochi, li metto a fuoco, Marte, Venere, Giove, Saturno, eccetera, sono tutte funzioni che sono legate al mio comportamento, sia fisico, quindi fisiologico, che psicologico, che animico, che spirituale. Poi abbiamo il fuoco eterico. Il fuoco eterico è una percezione. Se vogliamo il fuoco eterico è la continuazione di quella pratica che abbiamo detto all'inizio, il fuoco fiamma, il fuoco calore. Se io continuo a praticare la mia percezione del calore, a un certo punto questo calore diventa qualcosa di diverso, abbiamo detto, può essere una cosa elettrica, può sembrare più una brezza che un calore. Ci stiamo avvicinando a quello che è il fuoco eterico. Il fuoco eterico è la percezione di essere anima, è sentire che questo calore diventa elettricità, diventa etere, diventa forza. Un suggerimento può essere dal Tai Chi, nel Tai Chi Chuan si dice fare la palla, che in un certo senso è fare la sfera, sentire che tra le mani ad esempio c'è una sfera di energia. Se io metto le mani a una distanza ravvicinata e sto lì un po', piano piano muovo le mani lentamente, molto lentamente, come ad incontrarsi e poi a separarsi, non mi avvicino e mi allontano, però deve essere una cosa molto lieve. Dopo pochi istanti, secondi, minuti per i meno attenti, è come se sentissi una forza, una presenza. A un certo punto posso anche percepirne il battito, come una sorta di battito. Si può anche pensare che sia il battito cardiaco che imparo a sentire dalle mani. Ecco, questa percezione, quando io sento toccare, è come se toccassi qualcosa, ecco questo è l'etere, è il prolungamento della mano. Io ho una mano che è dentro a una mano fisica, la mia mano energetica è nella mano fisica come un guanto, se io mi concentro, se io ascolto, a un certo punto sento che c'è una forza. Questa forza è proprio la percezione delle mani eteriche, mi sto sentendo. Se io coltivo questo stato, imparo a sentirlo, piano piano questo sentimento, questo sentimento percezione si estende a tutto il corpo e mi sto avvicinando un pochettino a uno degli aspetti del fuoco. Poi c'è un altro fuoco, un quarto fuoco che possiamo citare qua, che è un fuoco più filosofico, più morale, ecco lo possiamo chiamare morale, mi piace, fuoco morale, cioè dire l'attitudine, tendenza che l'alchimista deve sviluppare nel non mollare mai, non bisogna mai cadere e se si cade bisogna rialzarsi. Il fuoco è proprio uno stato di continuità, stare attenti a quella voragine che è il mondo che sta intorno a me che cerca sempre di assorbirmi, di riportarmi su una sorta di divano simbolico, legato alle consuetudini, alla formalità, che mi faccia smettere di sognare, sognare in senso metafisico, quindi devo cercare questo fuoco morale anche, cioè devo esserci, devo continuare, non mollare mai e se cado mi devo rialzare subito. Ciao!